Serata di inaugurazioni, quella di ieri sera a Cosenza, la prima alle 19 al Mab per il grande metafisico di Giorgio De Chirico, una statua che con i suoi 3,40 m di altezza ha incantato i visitatori. Enzo Bilotti, artefice di quest'ulteriore donazione all'amministrazione comunale di Cosenza, l'ha definita la più bella e la più elegante. Realizzata in bronzo da un gesto originale del 1970, ispirato dall'omonimo dipinto custodito presso il Museo di Arte Moderna di New York del grande metafisico, esistono solo altri tre esemplari. Per Cosenza, sua eccezionale concessione della Fondazione Giorgio Edisa De Chirico, è stata realizzata la quarta fusione ad opera di una fonderia di Verona. Alle 20 è stato aperto al pubblico il gazebo comunale di Piazza 11 Settembre, affidato alla Proloco di Cosenza, che fungerà da punto informativo sulle attività dell'amministrazione, ma anche su ciò che concerne la fruizione di altri servizi sia nel territorio cittadino che provinciale, e tra le numerose attività anche la promozione di prodotti tipici ed itinerari tematici. Grazie a tutti!